Il rompete le righe arriva al termine di una stagione ricca di soddisfazioni. È tempo di saluti per le giovanili dell'Andria, ma anche di bilanci. L'ultimo trofeo che entra in Bacheca lo mostrano con orgoglio i ragazzi della squadra allievi. Al torneo Speranze, disputato a Francavilla Fontana, sono arrivati ad un passo dalla finale, sconfitti dopo 13 rigoli dalla Fiorentina, che poi ha vinto il torneo battendo il Bari in finale. Esperienza che ha confermato la bontà del lavoro svolto dai tecnici del settore giovanile dell'Andria, dal quale hanno pescato anche società di Serie A. È stata una stagione esaltante per tanti versi, perché abbiamo fatto un buon campionato con gli allivi nazionali, con i giovanissimi, con Aberetti. Con gli allivi siamo arrivati anche ai play-off. Poi c'è stata l'ultima ciligina sulla torta, che è stato il torneo di Francavilla, dove ci siamo confrontati con realtà professionistiche settore giovanile di Serie A, come il Parma, la Fiorentina, non da meritando affatto, uscendo in semifinale ai rigori, dopo il tredicesimo rigore con la Fiorentina. Quindi tutto sommato è un'annata positiva, anche perché parlo per il mio gruppo, ho visto crescere i ragazzi con una buona costanza e abbiamo raggiunto dei buoni traguardi. Abbiamo giocato con 97-98, di cui 5-6-98 di alto prestigio già un paio li abbiamo già dati fuori, diciamo, nel senso ad società più di primassima fascia. Ritengo che quest'anno l'Andria abbiamo fatto un gran settore giovanile. L'unica amarezza che oggi mi rimane è sentire queste brutte cose della prima squadra e spero, ahimè, che ci sia ancora proseguo. La stagione va in archivio con i play-off disputati dalla formazione allievi, il quarto posto dei giovanissimi e la crescita della formazione Berretti, il cui premio è stato quello di confrontarsi senza sfigurare con Bari e Juventus nel trofeo Città di Ostuni con le gare giocate al Degli Ulivi. Se il presente è ricco di soddisfazioni, il futuro del settore giovanile dell'Andria è tutto da decifrare, in attesa di conoscere le sorti della prima squadra. Ma questa è un'altra storia.